RaiStoria HD, RaiSquale HD, Radio 2, Visual HD sono le prime reti televisive italiane a sperimentare il sistema T2, un metodo di diffusione dei programmi attraverso una nuova tecnologia che si adegua al nuovo standard europeo del digitale terrestre. La nuova modalità permette di utilizzare meno banda per la trasmissione dei dati, di conseguenza rappresenta un'opportunità per il settore che a monte si troverebbe con un costo minore e con la possibilità di aprire nuove reti, magari quelle escluse dal primo bando del digitale terrestre. Il DVB-T2 significa Digital Video Broadcasting di seconda generazione, garantisce maggiore stabilità, meno interferenze e una qualità superiore. Il sistema dovrebbe arrivare a regime per tutte le reti televisive, ma al momento, come capita spesso in Italia, partono solo tre programmazioni, una sperimentazione che farà da apripista. Cosa cambia per l'utente? Nella maggior parte delle famiglie i televisori sono già moderni e sempre più smart. La maggior parte delle TV acquistate negli ultimi anni sono già compatibili. Sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è possibile trovare la lista di ricevitori idonei alla ricezione del DVB-T2 e i dettagli dell'iniziativa Bonus Decoder a Casa.